Il percorso della terapia cellulare è un percorso traslazionale che prevede un salto continuo fra il laboratorio e il letto del paziente per poter analizzare il problema e cercare una soluzione, andare a verificare che questa soluzione effettivamente abbia un senso, tornare in laboratorio e modificarla sulla base delle osservazioni per generare poi un prodotto terapeutico, va poi testato in laboratorio per verificarne la sicurezza e poi l'efficacia. Per questo motivo coinvolge un numero elevatissimo di professionalità. In Italia, io francamente lo dico, senza AIRC tutto questo non esisterebbe. Scusate, stavo cercando dove poter trovare le altre puntate di questo meraviglioso programma. Se anche voi li state cercando, le potete trovare sul canale YouTube di AIRC e su tutte le principali piattaforme di distribuzione audio.